Rieccoci su Sicilia 24, ben ritrovati. Apriamo questa nuova edizione di Spazio Notizia parlando di Covid, andando a vedere il consueto bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. Nell'isola sono ancora in lieve aumento i contagi e le nuove ospedalizzazioni. Vediamo il bollettino. Nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia con un'incidenza di nuovi casi pari al più 3,54%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa e Trapani. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e i 79 anni e tra i 45 e i 59 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risulta non vaccinata. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 12 al 18 ottobre. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,44%, mentre 67.445 bambini, pari al 21,88%, risultano aver completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,80% del target regionale. La percentuale di chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione è pari all'89,47%. I vaccinati con terza dose sono 2.766.002, pari al 72,32% degli aventi diritto. In Sicilia, dal 1 marzo, sono state effettuate 137.561 somministrazioni di quarta dose, di cui 129.512 a soggetti over 60. Cambiamo argomento, parliamo adesso di una truffa sul cosiddetto bonus cultura, truffa avvenuta nel Nisseno, a San Cataldo, e per questo la Guardia di Finanza ha denunciato un commerciante. Cellulari e videogame venivano ceduti al posto di libri e biglietti per spettacoli teatrali o del cinema, beni, quest'ultimi, previsti dal bonus cultura. Una truffa costata la denuncia a un commerciante di apparecchi elettronici di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, che si era accreditato al sistema 18UP, la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione dei fondi, per poi rivendere prodotti diversi da quelli indicati nella norma. A scoprirlo, in seguito a una segnalazione, è stato il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il bonus cultura è destinato ai ragazzi che si apprestano a conseguire la maggiore età per promuovere l'acquisto di prodotti culturali, come libri, biglietti per concerti e rappresentazioni teatrali, per un valore massimo spendibile di 500 euro. Il commerciante sancataldese, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe comunicato falsamente la rivendita di libri, biglietti di spettacoli teatrali o ingresso al cinema, cedendo invece beni da lui commercializzati, quali cellulari, videogiochi e computer, ovviamente non contemplati nelle categorie ammesse al beneficio. Sanzioni per l'illecito utilizzo del bonus cultura sono state elevate anche nei confronti di 360 fruitori, tutti i residenti nella provincia nissena e in quelle limitrofe, per un ammontare complessivo di oltre 160 mila euro. Al termine dell'attività svolta, il Ministero della Cultura ha intervenuto con l'immediata sospensione dell'accreditamento del profilo virtuale dell'esercente dal sistema 18UP e ha avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite. Ci spostiamo adesso a Trapani per parlare di un controllo straordinario sul territorio effettuato dai carabinieri, controllo che ha portato a un arresto e due denunce. I carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Trapani ed Erice. All'esito del servizio, i militari hanno proceduto all'arresto di un uomo e alla denuncia di altri due soggetti. L'arrestato, un trapanese classe 79, sarebbe stato sorpreso per le vie della città dopo essere evaso senza alcun permesso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto. Un ericino di 28 anni, invece, è stato denunciato poiché sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all'ingestione di bevande alcoliche. Inoltre, a seguito di una perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di crack, pertanto è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti. Denunciato anche un uomo classe 74, gravato da altri precedenti di polizia, il quale sarebbe stato sorpreso dai militari operanti alla guida di un motociclo sprovvisto di patente in quanto revocata in passato con reiterazione nel biennio. Restiamo a Trapani, dove il questore ha emesso due daspo nei confronti di altrettanti giovanissimi. Nei giorni scorsi il questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti soggetti minorenni che si erano resi responsabili di gravi reati avvenuti nelle scorse settimane nel centro storico di Trapani. Nel dettaglio, i due giovani si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di due ragazzi che dopo aver trascorso la serata in un locale stavano raggiungendo la propria autovettura per rientrare a casa. In quel momento erano stati violentemente picchiati dai due minorenni che avevano tentato di rapinarli dei loro averi. La rapina era sfumata poiché le due giovani vittime erano riuscite a divincolarsi e scappare, riportando comunque importanti lesioni personali. Per tali fatti, i due sono stati già sottoposti a misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria minorile a seguito delle indagini della Compagnia Carabinieri di Trapani. Il divieto di accesso notificato gli impedirà ai due giovani, per un periodo di due anni, di frequentare, accedere, transitare o sostare in tutte le strade del centro storico del capoluogo dove si svolge la cosiddetta movida. Pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. A Pantelleria, invece, siamo ancora nel Trapanese, un 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane incensurato nato a Milano ma residente sull'isola. Il ragazzo è stato notato da un militare dell'arma, libero dal servizio, in pieno centro in tarda serata mentre si appartava al guardingo con un altro soggetto conosciuto al carabiniere, scambiandosi velocemente qualcosa. Chiesto l'ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio, il militare ha sottoposto a perquisizione domiciliare il sospettato trovandolo in possesso di un involucro termosaldato contenente 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un involucro contenente 110 grammi circa di marijuana, 32 grammi circa di sostanza da taglio del tipo mannite, oltre a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Il 23enne è stato tratto in arresto dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l'intero quantitativo di sostanza stupefacente. A seguito dell'udienza di convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa durante un'attività di contrasto allo smercio di droga nel quartiere Librino hanno arrestato in flagranza un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 68enne pregiudicato catanese per evasione. Quest'ultimo, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre scorsi, per ben due volte era già stato denunciato per il medesimo reato venendo trovato sempre nello stesso posto. In particolare i militari dell'arma, per la terza volta in pochi giorni, si sono recati in Viale Nitta nel quartiere di Librino dove hanno potuto constatare come il banchetto sistemato nel sottoscala del palazzo già utilizzato per confezionare dosi dal 19enne arrestato due volte dai carabinieri nelle ultime settimane fosse ora gestito da un altro ragazzo impegnato nella stessa attività criminale. Un vero e proprio passaggio di testimone della postazione di lavoro strategicamente posta in corrispondenza di una finestra che mettendo in comunicazione il sottoscala con l'esterno dell'edificio consentiva agevolmente al pusher di turno l'effettuazione degli scambi di droga e di denaro con gli acquirenti. Il 22enne, già noto agli operanti, alla vista dei militari ha subito abbandonato il banchetto su cui erano poggiati due involucri contenenti rispettivamente 4 grammi di crack e 4 grammi di cocaina, una dose di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, tutto sequestrato, tentando di far perdere le proprie tracce all'interno del condominio verso i piani superiori. La fuga tuttavia è durata solo alcuni minuti, poiché i carabinieri, riusciti a entrare nello stabile, lo hanno individuato e bloccato sul pianerottolo del sesto piano. È scattato l'arresto anche per un 68enne pregiudicato catanese trovato per la terza volta in dieci giorni a gravitare davanti al palazzo dove è avvenuto l'arresto del 22enne, violando la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è sottoposto per spaccio di droga. Entrambi i soggetti, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari. Cambiamo argomento ma restiamo a Catania, dove un 34enne è stato arrestato per maltrattamenti, minacce ed estorsione nei confronti dei propri genitori. Vediamo il servizio. La procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di un catanese 34enne, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione di AC Sant'Antonio, che hanno associato l'uomo presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo, che fin dall'inizio del 2020 avrebbe reiteratamente sottoposto entrambi i genitori a un vero e proprio regime di terrore, costringendoli a vivere la quotidianità in un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro. In particolare, in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, lo stesso si sarebbe rivolto al padre e alla madre con gravi espressioni minatorie, quali vi taglio la testa o vi do fuoco, passando poi purtroppo alle vie di fatto con spintoni a entrambi e schiaffi per la madre, colpevole di aver tentato di riportare il figlio alla calma. Le diverse aggressioni fisiche, poste in essere dal 34enne in danno dei genitori, come pure il danneggiamento delle suppellettili, sarebbero state in realtà azioni strumentali alle richieste di denaro per importi variabili fra i 30 e i 100 euro, nella maggior parte dei casi soddisfatte dai familiari totalmente impauriti e sottomessi. Nonostante lo scorso luglio il soggetto, a seguito dell'intervento dei carabinieri su richiesta dei genitori, si fosse volontariamente allontanato dall'abitazione, il clima familiare sarebbe addirittura peggiorato, poiché i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne a casa da parte del figlio, che puntualmente, dopo averli minacciati di morte, avrebbe continuato a chiedere a entrambi del denaro. Notizia dal Siracusano, una confisca beni da 50 milioni di euro a un esponente mafioso del clan Nardo. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione al provvedimento del Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, che dispone la confisca dei beni riconducibili a Filadelfo Emanuele Ruggeri, appartenente al clan mafioso Nardo. Si tratta di due terreni situati a Carlentini e del 100% delle imprese, delle quote societarie e di tutti i beni costituiti in azienda, di due ditte di trasporto su gomma, entrambe con sede legale a Lentini. I predetti beni, il cui valore complessivo ammonta circa 50 milioni di euro, il 7 febbraio 2020 erano già stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della DDA Etnea nell'ambito di un'attività d'indagine a carico di Ruggeri e di suoi prestanomi. L'indagine ha consentito di accertare che le attività economiche in parola, di fatto condotte sotto la gestione del detenuto Ruggeri, operavano nel lucroso settore dell'autotrasporto dell'ortofrutta per il tramite di persone a lui riconducibili, avvalendosi di modalità mafiose e garantendo così al clan ingentissimi introiti. Il provvedimento ha pienamente recepito quanto emerso dalle attività investigative che hanno dimostrato, come Ruggeri, avvalendosi della collaborazione di propri familiari e prestanome, sebbene detenuto dagli anni 90 per associazione mafiosa, per omicidi e altro, continuava a gestire di fatto l'attività del clan, in particolare attraverso le predette imprese intestate ai suoi familiari. Approfondendo i profili di riconducibilità di tali attività economiche sul piano decisionale, gestionale e degli utili, le indagini hanno chiarito che le stesse erano strumentali alle attività illecite del clan e facendo risaltare l'evidente sproporzione dei redditi dichiarati leciti dei soggetti in parola con il patrimonio accumulato e con gli investimenti operati nel tempo, hanno consentito di operare la confisca dei predetti beni. Le indagini, pertanto, hanno ulteriormente accreditato le modalità con cui l'organizzazione mafiosa di riferimento continua a esercitare il proprio incisivo potere di infiltrazione nel tessuto economico del territorio, assumendo il controllo di settori caratterizzanti dello stesso. Ci fermiamo qui a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie. Grazie. Grazie.